Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorazontotto Allora, prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che avete poche ore perché tra poco finisce l'offerta per andare sul sito e pampling trovate il linkato e iscrivetevi sotto dove le magliette costano 10 euro però l'offerta sta finendo tutte le magliette del catalogo quindi tra pochissimo, poche ore sarà scaduta questa offerta ci sono anche delle magliette a tema Doctor Strange che sono molto interessanti le vedete qui in sonno impressione quindi se vi interessa sapete cosa fare perché aggiungendo al vostro acquisto un paio di calze a vostra scelta potete usare il codice VILASLO e le calze non le pagate quindi verso la mezzanotte l'offerta scadrà per cui affrettatevi se vi interessa ora però bando le cianci iniziamo subito con il video di oggi sigla allora si torna a parlare del processo per diffamazione che coinvolge Johnny Depp e Amber Heard è da un paio di settimane che non ne parlavo perché non mi va di spingere troppo su questo tipo di contenuto nel senso che torno a parlarne quando effettivamente c'è qualcosa da dire lascio che passino i giorni che si accumuli materiale di cui parlare e poi do un aggiornamento e vi dico anche che martedì intorno alle 22 farò una live su Twitch per parlare del processo insieme a Alice dell'Ora del Tè che trovate come canale linkato e iscrivete qui sotto perché lei fa dei riassunti settimanali molto super partes su quello che sta accadendo il processo durerà ancora qualche settimana si concluderà presumibilmente a giugno e faccio questo video perché sono successe diverse cose di cui secondo me è il caso di parlare dal momento che si tratta di un processo che è diventato un vero e proprio circo mediatico adesso si inizia a parlarne molto anche da noi perché il tutto è partito in sordina all'inizio se ne parlava poco se ne parlava tanto in Stati Uniti America viene tutto trasmesso in diretta su YouTube perché è una cosa che si può fare se le due parti si accordano in tal senso e l'obiettivo probabilmente di John Oideper era proprio creare un circo mediatico per iniziare a riabilitare il suo nome dal momento che la sua carriera si era interrotta ormai da parecchio tempo in seguito a quelle accuse e il fatto di esporre tutto al pubblico ha fomentato l'opinione pubblica e si sono creati dei veri e propri schieramenti ora io voglio parlare proprio di questo del fatto che negli Stati Uniti America i processi funzionano un po' diversamente rispetto a come possono funzionare qui in Italia o anche solo nel Regno Unito o comunque in altri paesi europei perché molto spesso lì c'è una giuria che deve dare un verdetto poi è il giudice a decidere in base alla verdetta della giuria quale pena combinare a chi perde la causa ecco il discorso qui è che negli Stati Uniti America si tende a spettacolarizzare molto di più che in altri paesi i processi e gli avvocati cercano di far seguire alle persone che difendono delle strategie specifiche proprio perché è importante dare una certa immagine del proprio assistito sia a chi segue il processo attraverso le notizie oppure come in questo caso attraverso le live su YouTube sia alla giuria perché l'opinione popolare è sicuramente qualcosa che riguarda le persone al di fuori ma che riguarda anche i giurati che ricordo non hanno accesso alle varie notizie per non essere influenzati volevo parlare proprio della strategia che gli avvocati hanno pensato per i loro assistiti perché abbiamo visto per un paio di settimane le testimonianze di Johnny Depp che ha ascoltato in aula i famosi audio in cui lei ammetteva di averlo colpito peraltro hanno anche letto i messaggi che si sono scambiati lui e Paul Bettany in cui lui scrive a Paul Bettany delle cose terrificanti su Amber Heard dicendo diamole fuoco parlava di abusare del suo corpo dopo la morte e Paul Bettany rispondeva con delle frasi ironiche del tipo sì è proprio una strega io propongo di insomma una cosa che io francamente non mi aspetterei da uno come Paul Bettany che lo vedi tutto con questo fascino british sempre calmo e poi dava manforte a Johnny Depp circa queste cose che scriveva molti dicono vabbè ma sono cose che si scrivono quando quando si è arrabbiato però diciamo che erano abbastanza pesanti sentirle leggere per quanto poi ovviamente non sia mai stato fatto niente di quello che si scrivevano devo dire che è un po' forte come 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 reperto come prova ecco però effettivamente non ha Johnny Depp non ha fatto nulla non ha mai provato a uccidere Amber Heard non ha non le ha mai dato fuoco certamente era anche in stato di alterazione che non è una giustificazione per l'amore del cielo molti tendono a sminurre e dire vabbè dai sono cose che si scrivono ma insomma a me non è mai capitato di scrivere una cosa del genere posso anche detestare una persona ma non mi metto a scrivere certe cose peraltro Johnny Depp è stato interrogato in merito e per l'appunto parlava di come lui procurasse anche le droghe a Paul Bettany purtroppo questo è un ambiente abbastanza marcio gira tanta droga non è che tutti gli attori assumano sostanze però diciamo che non è infrequente che ciò accada e quindi la strategia di Johnny Depp degli avvocati di Johnny Depp è stata chiaramente quella di farlo passare per chi non ha niente da nascondere lui sta affrontando questo processo perché è stato lui a fare causa all'ex moglie ad Amber Heard per 50 milioni di dollari per diffamazione tutto è partito da quel famoso articolo del Washington Post che lei aveva scritto insinuando di essere stata vittima di violenze nel corso del suo matrimonio non ha fatto il nome di Johnny Depp ma voglio dire tutti sapevano che il suo ex marito fosse Johnny Depp e pare che loro si fossero accordati affinché lei non dicesse nulla per 7 milioni di dollari poi ha scritto quell'articolo e quindi Johnny Depp poi le ha fatto causa 7 milioni di dollari peraltro è uscita fuori anche questa cosa lei aveva detto che di quei 7 milioni di dollari ne avrebbe dati 3 milioni e mezzo ad una associazione benefica e è saltato fuori che di quella cifra sono arrivati all'associazione 1 milione e 300 mila dollari buona parte della quale è stata fornita all'associazione non da Amber Heard bensì da Elon Musk si pensa che lei abbia dato più di 300 mila dollari e il resto sia stato dato a Elon Musk che all'epoca stava con Amber Heard dopo la separazione con Johnny Depp poi inizialmente si pensava che avrebbero testimoniato tanto Elon Musk quanto James Franco che avrebbero avuto secondo Johnny Depp una una relazione extraconiugale quindi loro erano gli amanti non insieme ovviamente addirittura era stato detto che James Franco era stato visto andarsene dall'abitazione coniugale stessa cosa Elon Musk con cui lei poi effettivamente per l'appunto è stata dopo però loro non testimoniano non testimonieranno per cui è stata smentita questa cosa si pensava all'inizio che avrebbero testimoniato e quindi già questa cosa è molto strana questa cosa della cifra perché lei poi ha detto no mi servono per le spese legali sicuramente è un processo che costerà molto e che sta costando molto quindi la strategia di Johnny Depp è proprio quella di fare quello che non ha niente da nascondere perché è lui ad averla citata per diffamazione è lui che deve dimostrare in primo luogo di essere pulito e quindi fa un po' il menefreghista però molto professionale che prende in giro l'avvocato di lei quando gli fa delle domande c'è questo video penso avreste potuto vederlo o lo avrete magari visto questo video in cui l'avvocato parla di questo documento che Johnny Depp lo avrebbe firmato e per quattro volte gli chiede ossessivamente se quella sia la sua firma dice è la sua firma lui dice sì è la mia firma quindi lei conferma che è quella la sua firma lui dice sì glielo confermo poi dice ancora quindi questo è un documento che ha firmato lei lui dice sì per la terza volta sì alla quarta volta che glielo chiede dice sì è lo stesso documento che ho firmato tre volte fa allora sì quindi lui fa un po' quello sornione quello sardonico che risponde alle domande palesemente strane con il ghigno che sorride sempre che si diverte a commentare le cose che succedono in aula con gli avvocati quindi dà proprio l'idea del simpaticone che è lì perché ha subito un torto e che non ha niente a nascondere questa è la strategia gli avvocati e i Depp hanno chiaramente cercato di sfruttare la simpatia che di cui Depp gode presso il grande pubblico presso l'opinione pubblica la strategia degli avvocati della Heard invece è palesemente una strategia completamente diversa ha iniziato a testimoniare e evidentemente perché funziona così gli avvocati preparano queste strategie devono dare una certa immagine del loro assistito e quindi istruiscono la persona che assistono affinché si comporti in un certo modo devono provare gli interrogatori quindi preparano poi i testimoni è un lavoro molto molto complesso soprattutto per un processo di questa entità e che cosa succede? succede che Amber Heard inizia a testimoniare e è chiaro che l'immagine che gli avvocati le hanno imposto di dare è quella della vittima cioè lei deve dimostrare di essere la vittima la strategia degli avvocati è stata anche quella di puntare il più possibile sul dimostrare che Depp facesse uso di droghe perché in questo modo l'opinione pubblica potrebbe interpretare l'utilizzo di droghe come qualcosa di associato alla violenza automaticamente il che non è per forza vero però sicuramente è una strategia su cui hanno puntato perché anche quando gli faceva le domande continuava a fare le domande sul è vero che lei si drogava è vero che lui non ha mai fatto mistero di questa cosa l'ha sempre detto lei ha iniziato a diciamo parlare un po' di quando ha subito violenze della prima volta di cui ha subito violenze ha raccontato di una volta in cui era in barca con lui e i suoi figli perché lui doveva vendere questo yacht a J.K. Rowling e voleva fare un ultimo viaggio tra l'altro questa cosa sullo sfondo mi ha fatto ridere sì doveva vendere lo yacht a quella che ha creato Harry Potter sembra quasi surreale non so perché non dovrebbe sembrare surreale però boh cioè lei tranquillamente dice lui doveva vendere questo yacht a J.K. Rowling ho pensato boh ma perché J.K. Rowling non si è comprata uno yacht e se ne è comprata ragione di appare ma che sono minuzi però questa cosa qua cioè non so perché era un dettaglio che nel contesto rendeva il tutto surreale non dovrebbe però mi ha dato questa impressione qua ma vabbè e ha detto che per l'appunto a un certo punto ha iniziato a tuffarsi ma lo faceva in una maniera strana sguaiata e che lei si è lamentata del fatto che lui avesse bevuto e che fosse un ubriacone allora lui ha detto che è andato da lei e l'ha guardata come se fosse un insetto dicendo tu mi stai mettendo in imbarazzo non ti devi permettere quindi lo dipinge come un vero e proprio orco e poi ha parlato del fatto che una sera lui era particolarmente sotto l'effetto di sostanze perché lei aveva notato che sul tavolo lui aveva posizionato un barattolo pieno di cocaina cosa che a me ha fatto venire in mente una cosa sola tra l'altro io ho un vaso di coca io ho un vaso di coca ma battute a parte ha detto che lei gli aveva chiesto candidamente che tatuaggio avesse sul sul braccio lui ha iniziato a reagire malissimo e sostanzialmente lei rilascia queste testimonianze in cui è disperata ma non verso una lacrima cioè si soffia il naso e palesemente vuole mostrare il dolore ma non riesce a piangere questo perché ognuno al dolore reagisce come può quindi in molti hanno iniziato a dire fa finta recita noi non lo sappiamo ragazzi non è che l'assenza di lacrime è indicativa di finzione quello che è certo però è che questa strategia presso l'opinione pubblica non sta funzionando perché viene editata come una che finge come una che guarda cerca di fare la disperata ma non versa lacrime il punto è proprio questo voi direte eh però questa cosa è sbagliata io sono d'accordo io sono dell'idea che bisognerebbe essere super partes io continuo a dire che non ci si può far abbindolare dal modo in cui loro due si comportano in tribunale perché come ho detto è palese che siano strategie concordate con gli avvocati ma il punto è che gli avvocati sanno perfettamente che è così che si fa tu devi puntare su una certa strategia far diventare il tuo assistito un qualcosa che si può etichettare Johnny Depp l'uomo che non ha niente a nascondere la herd la vittima e devi sperare che questa strategia convinca l'opinione pubblica la strategia pensata per la herd palesemente non sta funzionando perché le persone stanno iniziando ad averla ancora più in odio perché la bollano come quella che sta facendo finta e che palesemente sta mentendo noi però questo non lo sappiamo la colpa la colpa è un po' del pubblico e un po' comunque anche del sistema che punta a scatenare l'opinione pubblica e a creare un vero e proprio circo intorno a tutto quello che sta accadendo in aula peraltro io credo che gli avvocati e l'avvocata soprattutto abbiano mostrato finora un'incompetenza abbastanza evidente ma lo dico da persona che è ignorante di tutte le questioni della cosiddetta avvocatura questioni legali ma è proprio una cosa che è evidente anche a un profano come me vi faccio un esempio la cosa della palette ancora non ho avuto ripercussioni in aula però io dico se ci sono dei dubbi su questa cosa della palette che al punto che la stessa azienda ti sputtana ma fai delle ricerche prima non che questa ti presenta la palette e tu non vai a vedere di quando è stata prodotta la palette cerca di fare delle ricerche Cristo è il tuo cazzo di lavoro e va bene poi negli scorsi giorni ha testimoniato la dottoressa Courtney portata dall'accusa cioè dal team di Depp che dopo un colloquio di 12 ore con Amber Heard ha diagnosticato che la Heard abbia un disturbo bipolare con tendenze narcisistiche inclina scatti di rabbia e un addisperato bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione questo denota che si potrebbe aver inventato tutto quello per di cui ha accusato Johnny Depp una donna molto professionale estremamente competente tra l'altro mi ha colpito perché io l'ho guardato e ho detto cazzo sembra adottare Sarlen Quinzel prima di diventare Harley Quinn cioè perfetto se voi leggete i fumetti uguale quindi hanno anche scelto capito una testimone che potesse avere un certo charm anche capito appare professionale è proprio una testimone perfetta per questo circo mediatico di cui si stava parlando gli avvocati della Heard hanno cercato di mettere un po' in difficoltà dicendo però lei questa è stata una mossa che non mi è piaciuta è andata a cena con Johnny Depp fa sì è vero sono andata a cena a casa sua ma per essere interrogata dal suo team difensivo cioè non mica c'era solo lui non era una cena hanno cercato un po' di puntare sul fatto che fosse una bella donna come dire eh eh lei è una bella donna lei è andata da Johnny Depp a cena sì ma non è che sono andata a casa sua cioè sono io e lui dovevo prepararla il mio interrogatorio non è che si trattava di questioni sentimentali però anche qui tutti hanno iniziato a dire avete visto le ha diagnosticato questo e quello ma giorni prima ancora altri medici avevano parlato dicendo che anche Johnny Depp ha dei grossi problemi anche lui di depressione di abuso di sostanze narcisismo quindi è troppo comodo dire ah la Herd ha quello ma anche Johnny Depp quindi dobbiamo io capisco che si caschi nel sistema perché il sistema vuole che si parteggi per l'uno o per l'altra persona a me Amber Herd a pelle non sta simpatica non mi mi si pone in una maniera che io trovo antipatica questo però non deve farmi pensare quindi è colpevole si sta inventando tutto una persona antipatica non è per forza colpevole così come una persona che appare simpatica non è per forza innocente io do il beneficio del dubbio perché non sono un avvocato quindi non sono qui per dire chi ha ragione o chi ha torto sono qui per fare un riassunto perché me lo chiedete in tanti perché mi diverte fare questo tipo di video perché comunque alla fine è tutto strettamente collegato a quello di cui parlo ci sono in ballo le carriere di due attori uno dei quali è particolarmente apprezzato e da questo processo dipende un po' anche la sua carriera adesso lui pare sia stato scritturato per un film su Luigi XIV se non sbaglio una produzione mi pare statunitense quindi già sta tornando un po' a lavorare perché alla fine lui interessava questo lui interessava che l'opinione pubblica lo scagionasse più che una sentenza che gli desse ragione lui aveva bisogno di tornare a essere amato dalle persone e questo processo sta facendo esattamente questo sta gettando cattiva luce su di lei e una luce angelica su di lui ma ricordiamoci che sulla terra non ci sono santi non ci sono diavoli siamo tutti esseri umani ci sono persone che fanno cose cattive persone che fanno cose buone ma ci sono anche persone che fanno cose a volte cattive e a volte buone quindi è troppo comodo sulla base del niente accusare scagionare o scagionare una persona io penso che si debba cercare perché è vero se ci pensate finora in tribunale sono state portate esclusivamente prove del contrario cioè non sono emerse evidenze che facciano che dimostrino che lui le ha usato violenza mentre invece ci sono delle evidenze cioè delle registrazioni che dimostrano che lei ha usato violenza su di lui hanno letto dei messaggi in cui e ha fatto sentire le registrazioni in cui lei si lamentava del fatto che lui ogni volta che iniziavano a litigare prendesse se ne andasse dalla stanza e lui diceva che il motivo per cui lo faceva era semplicemente che sapeva che la situazione sarebbe degenerata a un certo punto si sente lui che dice quindi cosa vuoi fare vuoi colpirmi ancora vuoi picchiarmi ancora vuoi picchiarmi ancora e lei gli tirava un colpo quindi lui aveva detto io le ho detto così perché mi aveva colpito poco prima un pugno una sberla comunque un colpo sull'orecchio lui non sapeva dire se fosse un pugno una sberla che mi ha rintronato e l'ho detto ora vuoi colpire mi ha detto che poi l'ha colpita sotto la mascella quindi finora abbiamo delle evidenze che sia stata lei a usare violenza su di lui per ora di evidenze che dimostrino che lui abbia usato violenza su di lei non ce ne sono lei ha parlato di lividi ha parlato del naso che le era stato rotto ma nessuno ha mai visto le prove di quello che dice cioè nessuno l'ha mai vista coperta di lividi nessuno l'ha mai vista con il naso rotto c'è anche la testimonianza della sua assistente dicendo che lei spesso era le urlava addosso a un centimo dal naso tanto che le sputacchiava in faccia che spesso litiga che ha litigato spesso con lei insomma esce un quadro di una persona poco equilibrata così come lo è anche Johnny Depp quindi io posso capire che le persone dicano e però non ci sono evidenze sul fatto che lei sia stata picchiata a lui è anche vero però una cosa è anche vera una cosa sia nel processo contro il The Sun di tempo fa sia in questo è stata pagata quella cifra aggiuntiva che permette di mandare avanti il processo secretando delle prove che vengono mostrate solo agli avvocati al giudice e alla giuria che non vengono rese pubbliche per cui noi non sappiamo cosa ci sia nei documenti secretati e quindi non sappiamo mai la verità finché non arriverà la sentenza per cui può sembrare che Johnny Depp al momento sia in vantaggio da un punto di vista legale ma in realtà sembrava così anche nel processo contro il The Sun poi è stato dato fuori che non c'erano prove per dimostrare che lui fosse stato violento contro di lei ma non c'erano neanche prove tali per cui si potesse dire il contrario e quindi il The Sun poteva chiamare wavebeater che per me è una cosa assurda onestamente perché io penso che uno debba essere cioè di solito si dice innocente per una prova contraria invece lì devi dimostrare di non essere colpevole quindi voglio dire cioè finché non hai la prova che quella cosa è fatta teoricamente invece no non funziona in quel modo lì nei processi britannici a quanto pare però poi vabbè è un discorso più complesso magari qualcuno che è più esperto di me lo può dire nei commenti io se dico delle inesattezze ditemelo pure chiedo scusa mea culpa potete poi c'è stata anche un'altra cosa recentemente questa notizia sul fatto che lei avesse rilasciato durante la sua prima testimonianza una dichiarazione che fosse parola per parola un monologo tratto da il talento di Mr. Replay però in effetti non ci sono prove che lei abbia letto questa cosa quindi quella io non sono riuscito ancora a capire se sia una fake news oppure no sul web si sta dibattendo di questa cosa c'è chi dice sì è una fake news e chi dice no ma in realtà effettivamente io prove di questa cosa ho cercato bene non le ho trovate quindi la bollo come fake news però in realtà non è sicuro al 100% però sarebbe troppo assurdo credo sia una palla ben orchestrata però perché non ci credo che vada a prendere il monologo di un film famoso e lo spacci come suo durante la testa in un processo sarebbe un po' troppo però vabbè sta di fatto sta di fatto che per l'appunto per il momento ci sono queste evidenze che lei abbia alzato le mani su di lui e addirittura in uno degli audio c'è lei che urla dai vai a dire alla gente che sei stato vittima di violenza domestica Johnny dai a chi crederanno a te o a me crederanno che ti ha picchiato una donna io quando ho sentito quegli audio ho pensato ma vaffanculo veramente che nervoso però questo cioè lei sicuramente ha fatto delle cose sbagliate il che però non esclude che le abbia fatte anche lui io penso che la verità stia sempre nel mezzo io penso che potrebbe uscire tranquillamente che sì lei ha fatto certe cose ma che anche lui abbia fatto quello per cui è accusato poi io l'ho già detto mille volte a me spiacerebbe sapere che Johnny Depp effettivamente ha usato violenza ad Amber Heard come lei racconta perché per quanto io cerchi sempre di separare la persona dal dall'artista comunque non mi fa piacere sapere che un attore che seguo da quando sono bambino è un violento e uno stupratore di sicuro piacere non fa quindi da un certo punto di vista io penso che come va a finire va a finire è comunque uno schifo perché se veramente lui l'avevo già detto questo se veramente lui ha fatto quello che lei dice è terribile allo stesso tempo se lui è innocente ed è lei che si è inviottato tutto è terribile lo stesso perché perché poi questo andrebbe a gettare un'ombra su tutto il movimento me too e sarebbe sbagliato perché non è che per una persona che si inventa delle accuse e che sfrutta quello che ha creato il movimento a suo vantaggio facendo del male allora tutto il movimento va screditato si tratta di una sola persona questo ci deve ricordare che esistono persone che fanno cose buone persone che fanno cose cattive se lei si è inventato tutto poi quando io dico così molti vengono a dimmi ma come fai a dire così ma ci vede no non si vede ragazzi perché io non sono un avvocato non sono un giudice non si può non si può credersi giudice giuri e carnefice io non so la verità non la sapete neanche voi quindi nel momento in cui dite ma come fai a dire che lui sia colpevole è chiaro che è innocente lo state dicendo sulla base del niente lo state dicendo sulla base di una simpatia ed è sbagliato io continuo a ricordarlo non è un processo cioè non è un scusate non è una partita di calcio è un processo non si fa il tifo per l'uno o per l'altra parte può starti più simpatico uno dei due imputati d'accordo però questo non significa che se uno è simpatico allora non abbia fatto un cazzo per il momento tutto sembra avvolgere un po' più a suo favore però anche le testimonianze le heard ti dipingono un uomo scontroso un uomo inclina gli sbalzi d'umore può anche darsi che molte delle cose che racconta siano effettivamente vere ragazzi le cose che le ha raccontato non sono cose purtroppo così infrequenti sono racconti che si sono sentiti mille volte una persona dolcissima tenerissima che a un certo punto per una frase sbagliata impazzisce cambia completamente umore inizia a urlarti addosso inizia a mortificarti è violenza psicologica c'è anche quella non c'è solo quella fisica attenzione quindi non sappiamo bene com'è andata ancora poi quando ci sarà la sentenza capiremo meglio però il punto è io mi chiedo cosa farà poi ad esempio la Warner perché poi tra l'altro gli avvocati e le Heard puntavano a dimostrare che in realtà la carriera di lui non fosse distrutta come tutti credevano e che invece lo fosse quella di lei molti dicono sì ho capito fino a prova contraria Johnny Depp è stato cacciato animali fantastici non lavora da un po' lei invece è ancora a bordo su Aquaman 2 ha fatto anche The Stand l'abbiamo vista in The Stand era Nadine l'ombra del scorpione la serie trattata al romanzo di Stephen King quella per Starz su Starz Play per cui loro cercavano di dimostrare che in realtà la carriera di Amber Heard fosse più distrutta di quella di Depp così a vedere non sembrerebbe certo che se si viene messa una sentenza su di lei suppongo che Warner la tolga da Aquaman 2 e se non lo fa lì c'è da incazzarsi perché nel momento in cui lui ha perso la causa contro il The Sun lo hanno tolto da animali fantastici e va bene se lei dovesse perdere questo processo e venisse condannata a pagare una certa cifra a Johnny Depp per diffamazione e quindi il nome di Depp venisse riabilitato e Warner non cacciasse Amber Heard da Aquaman 2 non sarebbe corretto perché vuol dire che fai due pesi e due misure hanno detto chiaramente finché non c'era una sentenza noi potevamo dare il beneficio del dubbio nel momento in cui c'è la sentenza di un tribunale noi dobbiamo prendere i provvedimenti lo capisco se è un'azienda però lo devi fare per tutte e due le persone non solo per una perché se poi c'è una sentenza che dovesse pendere su di lei io mi aspetto che lei venga rimossa da Aquaman 2 perché altrimenti mi viene da dire ah ma cosa facciamo due pesi e due misure lo fa lui lo cacciamo cioè la sentenza è su di lui lo cacciamo la sentenza è su di lei non la cacciamo e no equità nei provvedimenti che vengono presi perché altrimenti è una buffonata ragazzi altrimenti è una gigantesca buffonata quindi questo video l'ho fatto per far notare un po' quali sono le strategie che hanno adottato per bisognava secondo me bisognava anche un po' parlarne perché era da settimane che la gente si chiedeva ma questa quando è che parla che è sempre in silenzio che guarda poi arrivano tutte quelle cose che secondo me lasciano molto il tempo che trovano persone che dicono ah guarda lei appena non è inquadrata sorride sogghigna poi quando lo inquadrano fa di uno la faccia triste raga noi non sappiamo quando esiste una persona magari in quel momento ha visto qualcosa che la faceva rider poi c'era anche questa scena di Johnny Depp che si avvicina a lei lei che si ritrae tutta spaventata lui che si gira fa spallucce se ne va e tu ti dirai hai visto recita la parte di quella spaventata magari lei veramente ha paura di lui noi non lo sappiamo ragazzi noi sappiamo solo quello che vediamo ma molto spesso le cose possono essere artefatte possono essere montate nel modo che si vuole è un attimo far sembrare una persona quello che non è ora io non io non parteggio io non sto parteggiando per nessuno do il beneficio del dubbio lui do il beneficio del dubbio lei perché non so le cose perché non posso diventare io il giudice non sono abbastanza esperto e soprattutto non ho il materiale per poterlo dire poi è pieno di cose assurde ad esempio un'altra cosa che fa capire quanto invece gli avvocati di Depp siano molto competenti è questa cosa che è stata poi riportata in tanti video sul web che riportano compilation con le musichette e questa cosa che quelli io cerco di guardare il meno possibile perché mi capita magari su TikTok ma quelli sono proprio fatti per influenzare l'opinione sono proprio delle robe fatte apposta per e quindi non mi piace tanto come cosa però lei quando testimonia si vede interrompere a più riprese degli avvocati di lui e fa delle facce molto arrabbiate giustamente perché non riesce a parlare ma il punto è che questi avvocati conoscono perfettamente cosa possono fare è una strategia tu chiami l'obiezione alla minima sbavatura della testimonianza perché così fai perdere il filo del discorso è quello il punto sono avvocati molto bravi utilizzano ogni mezzo lecito per per mettere in difficoltà l'avvocata e l'eard l'altro giorno ha chiamato a testimoniarle questa altra dottoressa quest'altra psicologa la quale ha diciamo detto che in realtà Miss Heard non avrebbe i problemi che diceva la dottoressa Kearney e qui ci sono due cose la testimone era stata ripresa dalla giudice perché a quanto pare aveva degli appunti e teoricamente non puoi guardare gli appunti quando vuol dire che non ti hanno istruito molto bene e anche questa cosa qua è un po' nebulosa non si è capito se effettivamente fosse vero sembra che avesse degli appunti sembra questa cosa qua sembrerebbe che non si è capito se erano appunti oppure se stava guardando e sembrava però insomma era una testimonianza un po' in bilico soprattutto l'avvocata della Heard continuava a chiamare questa donna Dr. Courtney ma la dottoressa Courtney era l'altra psicologa quella che aveva testimoniato contro la Heard quindi faceva confusione e l'avvocata quando ha chiamato a testimoniare Amber Heard la chiamava continuamente Laura Amber Heard non Amber Laura Heard come direte cosa cambia cambia perché tu neanche sai come neanche sai come presentare il tuo assistito hanno fatto della figura dei cioccolatari gli avvocati c'è un cazzo da fare l'avvocata in particolare ha dimostrato dell'incompetenza tant'è vero che a un certo punto si era diffusa la voce che lei stesse per abbandonare il processo poi non era vero però insomma secondo me c'è una disparità di bravura tra gli avvocati di uno e gli avvocati dell'altra a mio modesto è una roba che è evidente anche a un profano se voi andate a leggere l'articolo di specializzati dicono che questi qui stanno facendo un po' di confusione però vabbè quindi ho voluto fare questo riassunto per verificare anche la questione della strategia per capire un po' anche il punto della situazione ci sono ancora diverse settimane quindi magari un altro paio di video li farò comunque martedì ne parleremo in live con una persona che si è studiata bene il caso che sta facendo riassunti settimanali ripeto trovate il suo canale l'ora del tè in descrizione qui sotto sono molto utili poi lei è molto super partners per cui io voglio sapere cosa ne pensate cerchiamo di essere tranquilli ragazzi non facciamo tifoserie non iniziamo a dare titoli a lei titoli a lui perché altrimenti non si può creare la discussione io vorrei una discussione civile nei commenti mi farebbe molto piacere quindi io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente grazie mille e noi ci vediamo al prossimo buio vlog ciao a tutti